Ma il personale, 44-03 nel 2021, il suo anno migliore, è sicuramente un personale di ottimo livello. Intanto ci segnalano che siamo anche in diretta su Atletica Italiana TV e siamo molto contenti di potervi proporre questo 400 che vede Jonathan Sakor partire molto bene, ma anche Gnaki Cagnalla e Duben Nuaciuccu stanno esprimendo alla grande nelle corsie 4-6 ed ecco anche Cagnalla che compare all'inquadratura con la canotta verde. Sta correndo molto bene anche Scott in corsia 3, tenendo conto anche della sua consueta distribuzione, quindi della possibilità di correre forte al finale. Sta uscendo in corsia 2, Babolochi Tepe per il Boswana, ma all'esterno Gnaki Cagnalla ad andare a vincere, tra l'altro non lontano dal personale, 45-58 per Gnaki Cagnalla. Quindi sicuramente una bella gara per Gnaki Cagnalla.